Santa Lucia di Prato, ma davvero non è una buona giornata perché piove a dirotto, mancano pochi minuti alla partenza della Scarpirampi che festeggia quest'anno i 20 anni. Siamo con Silvano Melani che è l'ideatore di questa manifestazione titolare del negozio Il Campione e anche quest'anno, quindi il tempo non è stato certo benigno, Silvano? È una settimana che martellavano, che domenica sarà tremendo, vedo che i podisti e i ciclisti non hanno paura proprio di niente specie a chi gli piace queste manifestazioni, anzi ti dirò di più, ma no per scherzo, gli piace di più quando affrontare la Calvana con il tempo brutto, si sentono più eroi, io penso che c'è un pizzico di pazzia dentro loro, però sono veramente grandi ragazzi veramente un applauso a questi che stamani, io credo non manca, anzi si stanno continuamente segnando in più bene per loro e complimenti Sicuramente i concorrenti troveranno un tracciato ancora più impegnativo, ancora più difficile tenuto conto appunto della pioggia dei giorni scorsi e anche della nottata E questo è il bello della coppia, il podista è contento perché il ciclista si troverà in particolar modo in difficoltà perché trovando il fango della Calvana, che molti di voi della zona di Prato e dintorni conosceranno penso sia proprio in difficoltà oggi il ciclista, però sarà una cosa bellissima, io vedo una delle poche volte che una giornata così e tutte le gente sorridente come non mai, beati loro È un momento anche di dire grazie sicuramente ai tuoi collaboratori, non soltanto al Circolo Arce di Santa Lucia che ci ospita per la partenza, poi l'associazione Regalami un Sorriso che è vicino a te naturalmente poi la Lega Atletica di Prato e la Lega Ciclismo di Prato Io da solo, come ho sempre detto, non potrei fare niente Io ho un po' testa matta di inventare queste cose, ho sempre trovato un po' di pazzia nei chi mi ha tirato fuori la volata e così si va avanti però è questa la soddisfazione della manifestazione trovare amici che ti seguono continuamente, gente brava e che si può fare ancora di queste manifestazioni Tornando ai concorrenti, sicuramente ci sono degli atleti che nel fuoristrada vanno forti parlo dei ciclisti, dei bikers, ma sicuramente anche degli ottimi podisti che hanno disputato anche gare importanti C'è un livello medio alto di concorrenti, io ho visto concorrenti che primeggiano nel bike veramente, qui non si sentono rispetto a altri settori grossi campioni qui invece ecco, vedo moltissima gente che primeggia nelle altre gare e che sono qui presente è una volontà però non quanto quella di vincere ma quella di partecipare alla Scarpi Lampi per loro ormai è rimasto insomma un impegno fisso insomma per diverse di loro è una cosa insomma impressionante di come gli andrea bene questa manifestazione Abbiamo parlato di Lega Ciclismo Ispe di Prato, siamo in compagnia anche di Giuseppe Amatucci che ne fa parte, quanti siete oggi in servizio? Come saranno dislocati i vari controlli lungo il percorso Giuseppe? Siamo tutti in servizio, tutta la Lega è impegnata oggi in questa manifestazione e siamo dislocati nei vari punti di ristoro dei controlli andando dalla Calvana a Montecuccoli, tutto il clinale diciamo della Calvana e purtroppo una giornata non è bella come ha detto te però noi la affrontiamo come fosse bella ecco perché ci piace siamo un po' matti come ha detto Silvano e si chiamiamo avanti così Da sempre vicino alla Scarpi Rampi l'associazione Regalami un Sorriso siamo con Piero Giacomelli, noto fotografo che poi realizzerà il servizio appunto fotografico su questa Scarpi Rampi la vostra associazione è vicina anche a questa iniziativa Piero? Diciamo che siamo vicini a tutto lo sport quest'anno grazie ai fondi raccolti appunto nel mondo dello sport abbiamo già distribuito sei defibrillatori che sono una cosa importante anche la Onlus, il consiglio direttivo ha effettuato il corso BLSD proprio per l'utilizzo dell'oggetto diciamo siamo un valore aggiunto alla gara diamo oltre a dare un servizio fotografico, un servizio d'assistenza, un servizio ai podisti gli stiamo dando anche un servizio di sicurezza Scarpi Rampi Piero, tornando invece all'aspetto tecnico che sarà durissima con questo tempo diciamo le cose facili le stanno fatte tutte, gli uomini veri si vedono oggi come abbiamo detto anche con Silvano Belani l'Atletica Leggera di Prato, l'Atletica Leggera UISP di Prato della Lega è impegnata nell'organizzazione della Scarpi Rampi siamo in compagnia del signor Rosati che appunto cura questo aspetto organizzativo una manifestazione singolare ma che ha già raggiunto 20 anni quindi evidentemente ha trovato il gradimento di tanti appassionati sì sì è una corsa particolare, molto difficile e impegnativa anche perché si svolge in un periodo questo che è tipico insomma avere condizioni meteo in questo modo però riscuote tanto successo perché i podisti generalmente sono così sono una razza che è particolarmente attaccata alla corsa e anche alle situazioni difficili Lei che segue sicuramente l'Atletica Leggera, prima chiedevo a Silvano Belani ci sono sicuramente tra i podisti anche atleti concorrenti che sono stati protagonisti anche in gare di un certo livello No certamente, qui ho visto prima, curavo un attimo l'aspetto delle iscrizioni ho visto passare atleti come Cartesian Luca per esempio che lui addirittura va a concorrere all'Iron Man che sono condizioni ancora più difficili rispetto a questo quindi ho visto anche tanti altri che vanno molto bene a piedi che affiancati a persone che in bicicletta ci sanno andare perché in questa corsa è importante saperci andare in bicicletta Allora buon lavoro Grazie Ed è il momento della partenza per questa ventesima edizione della Scarpi Lampi Pioggia torrenziale, poca visibilità, le nubi e la nebbia coprono il crinale della Calvana sarà davvero un impegno non indifferente per i partecipanti a questa gara un centinaio le coppie al via ma c'è da ricordare la presenza anche di 85 podisti per loro ci sarà da lottare per il successo nel trail della Calvana Vediamo il momento in cui ormai anche i bikers oltre ai podisti naturalmente pronti a lasciare la zona di via del Guado nella zona appunto di Santa Lucia alla Castellina e iniziare questa fatica a 30 km con arrivo a San Quirico di Vernio in Val di Bisenzio proprio a fianco del palazzo comunale L'anno scorso si imposero Salimbeni e Sandretti sono tra i favoriti sicuramente anche di questa edizione ma sono diverse le coppie che aspirano al successo Con le immagini siamo già nella zona di Vaiano e già Luigi Salimbeni prende con decisione l'iniziativa assieme a lui ricordiamo il podista e Sandretti sono loro che hanno guadagnato la testa in questa ventesima edizione della Scarpi Lampi questa singolare manifestazione organizzata da Silvano Melani del negozio Il Campione ricordiamo anche l'apporto dell'associazione Regalami un sorriso quello dell'atletica leggera Uispe di Prato e naturalmente della Lega Ciclismo Uispe di Prato con il vicepresidente Livio Santini con Renato Righini e gli altri giudici impegnati in questa competizione patrocinio del Comune di Prato e di Vernio per questa Scarpi Rampi che prevede questi 30 chilometri per raggiungere la zona più alta quella di Aia Padre oltre 800 metri di altitudine poi una lunga picchiata attraverso Monte Cuccoli per raggiungere il traguardo naturalmente siamo ancora sull'asfalto ma tra non molto inizieranno i sentieri inizieranno le mulattiere verso il crinale della Calvana verso anche la zona di Valibuona che viene toccata per un paio di chilometri e sia i sentieri che le mulattiere con la pioggia battente di questa notte delle prime ore del mattino sono dei veri e propri ruscelli come si può notare anche da queste immagini e siamo come abbiamo detto in un tratto di strada asfaltata ci sono anche le coppie miste sono una dozzina complessivamente tra le cento che stanno dando vita alla competizione e vediamo ancora un passaggio per quanto riguarda naturalmente le varie coppie ci sono un paio di zone di ristoro oltre quella al traguardo mentre sono previsti bene cinque controlli e nella zona del controllo sia il podista che il biker devono transitare assieme praticamente dovranno ripartire dalla zona controllo assieme quindi il primo che arriva dovrà attendere il compagno prima di riprendere la marcia una fatica davvero non indifferente coraggiosi, temerari questi concorrenti che stanno dando vita a questa ventesima edizione della Scarpi Lampi che prevede la cerimonia di premiazione come ci ricordava Silvano Melani nell'intervista prima della partenza per venerdì prossima alle ore 21 all'Hotel Palace di Prato da ricordare che sono previste praticamente numerose premiazioni le prime 20 coppie verranno premiati poi ci saranno i premi speciali per le prime tre coppie miste le prime tre femminili una classifica supplementare sulla base della somma dell'età e a tal fine ricordiamo che il più anziano dei concorrenti è Renato Poli direttore sportivo del Veloclub Vaiano a livello femminile e che ha ben 69 anni anche quest'anno presente a questa manifestazione è da sottolineare peraltro anche la presenza di tanti podiste abbiamo detto circa 85 per loro ci sarà da lottare per il successo nel trail della Calvana e vedremo chi poi si aggiudicherà questa manifestazione intanto soffia anche un discreto vento siamo soltanto nei primi chilometri di questa manifestazione che tante volte ha portato alla ribalta biker di un certo livello e anche quest'anno sicuramente poi lo vedremo al traguardo saranno i protagonisti più attesi ad essere naturalmente in grado di potersi imporre alla distanza vediamo intanto i passaggi sia dei podisti che dei bikers da ricordare anche la presenza l'abbiamo visto alla partenza Fabio Fabri titolare a sé Maiurinaldi del negozio a ruota libera di Poggio Accaiano e che tra l'altro gareggia in coppia con Jonathan Tesi e che in questi primissimi chilometri della ventesima Scarpi Rampi sta viaggiando bene infatti nelle prime posizioni si continua naturalmente con i vari passaggi da questa zona siamo praticamente all'altezza di Vaiano sono stati percorsi appena una decina di chilometri ma naturalmente il tratto più duro più impegnativo ci dicevano i giudici della Lega Ciclismo Wisp e non sarà facile poter predisporre tutti i controlli che erano previsti proprio per le condizioni meteorologiche e naturalmente comunque si confida naturalmente nella sportività dei concorrenti anche se magari ci sarà meno un controllo lungo il tracciato dunque situazione per il momento al comando Luigi Salimbeni del team Olimpia di Montemurlo in coppia con Riccardo Sandretti ma anche Arretini Salucci Lombardi Quinzi Baldi Perera e Fabri Tesi sono abbastanza vicini ma siamo soltanto alle battute iniziali e questa è la zona della Calvana con i sentieri e le mulattiere che attendono il passaggio della ventesima edizione della Scarpi Lampi dove continua ad essere protagonista la coppia formata da Luigi Salimbeni il ciclo amatore molto abile uno dei più bravi anche per quanto riguarda le Gran Fondo del team Olimpia di Bagnolo di Montemurlo che vedete inquadrato è di Castiglione dei Pepoli quindi abita non distante nemmeno dalla zona di arrivo e questa è la zona di controllo viene effettuato un timbro in pratica sul pettorale di Luigi Salimbeni che in questo momento lo vedete in questo primo piano continua nella sua azione e assieme a lui naturalmente Riccardo Sandretti che è lì davanti una ventina di metri e che quindi lo sta attendendo avete visto per un attimo anche Piero Giacomelli eccolo qua Piero Giacomelli un fotografo che rappresenta anche l'associazione Regalami un Sorriso un grande appassionato dell'atletica leggera delle gare podistiche ma anche naturalmente un puntuale osservatore per quanto riguarda questa Scarpi Rampi giunta alla sua ventesima edizione non cambia la situazione con Salimbeni e Sandretti al comando con Andrea Arretini e Sauro Salucci che comunque stanno viaggiando assai vicini alla coppia di testa mentre poi in terza posizione Lombardi Sergio e Giuseppe Quinzi quindi Alessio Baldi Cristian Perera Fabio Fabri e Jonathan Tesi poi a seguire abbiamo Cecconi con Fedi Gavazzi con Magnolfi Ciolli con Fani Alessandri con Cardia e Cipriano con Pinai tra le coppie miste invece Pamela Rinaldi assieme a Gianni Borsetto stanno comandando la gara non ci sono in questa edizione coppie interamente femminili e quindi ci sono soltanto una dozzina di coppie miste da segnalare invece per quanto concerne il trail della Calvana Sandro Giorgetti sta comandando la gara in questo momento con un buon margine di vantaggio nei confronti di Graziano Fibbi e di Pierfrancesco Bellinvia ecco qua il passaggio appunto di altri concorrenti naturalmente questo è un tratto micidiale dove diventa impossibile rimanere in sella in bici ricordiamo che il podista e il biker si possono alternare sulla bici e quindi ci saranno dei tratti in cui appunto avverrà questo cambio con il podista che inforcherà la bici e con il ciclista invece che sarà costretto a viaggiare a piedi mentre vediamo dopo il controllo che la situazione praticamente non è cambiata questo è un tratto veramente difficile per quanto riguarda il percorso è Fabio Fabri che è appena transitato eccolo qua inquadrato in questo momento il titolare del negozio a ruota libera di Poggio Accaiano lo avete visto transitare è stato costretto a mettere i piedi a terra a spingere la bici in questo tratto figlio dell'ex professionista Fabrizio Fabri si sta comportando bene perché è nelle prime cinque posizioni mentre i numeri alti quelli in pratica che vanno dal cento in poi sono praticamente i podisti coloro che prendono parte al trail della Calvana che da un paio di anni accompagna la Scarpirampi questa bella manifestazione che Silvano Melani titolare del negozio il campione organizza assieme all'atletica leggera Wisp di Prato e assieme alla lega ciclismo Wisp sempre di Prato con l'associazione Regalami un sorriso ed il patrocinio delle amministrazioni comunali intanto vediamo ancora questa immagine sempre nella zona ci troviamo praticamente qui attorno al diciottesimo chilometro abbiamo superato già metà percorso ma i concorrenti continuano a salire perché dovranno raggiungere gli oltre 800 metri di Aia Padre da dove in pratica inizierà un lungo tratto in discesa ci sarà poi una breve impennata nella zona di Monte Cuccoli e poi da questa località la picchiata verso il traguardo di San Quirico di Vernio ecco questa singolare curiosa immagine non sappiamo se il podista spinga il ciclista o viceversa vediamo comunque questo tratto di sentiero di mulattiera veramente impegnativo e difficile la partenza invece è avvenuta da Santa Lucia di Prato che ritrovo presso il Circolo Arci che ormai ospita da molti anni questa Scarpirampi lo fa sempre volentieri in una mattinata davvero infernale per il tempo inclemente pioggia torrenziale ora la pioggia ha cessato di cadere ma naturalmente i tratti soprattutto quelli sterrati sono veramente pesanti difficili qui invece le pietre che incontrano i concorrenti praticamente coprono la pesantezza del terreno e naturalmente non si nota il fango che invece i concorrenti incontrano e dovranno incontrare in altri settori di questa ventesima edizione della Scarpirampi questa manifestazione che è stata sempre accolta con piacere dagli appassionati naturalmente del podismo e anche del mountain bike che si cimentano volentieri è un periodo questo dove tra l'altro anche i podisti sono impegnati in numerose maratone si avvicina anche quella di Firenze è prevista per il prossimo 25 novembre e qualcuno sicuramente di questi concorrenti di podisti saranno presenti a quella manifestazione dunque riepiloghiamo quella che è la situazione in questa ventesima edizione della Scarpirampi Luigi Salimbeni il ciclo amatore di Castiglione De Pepoli un ciclo fondista bravissimo e protagonista anche quest'anno nelle gran fondo più importanti tra l'altro abbiamo visto anche Claudio Varocchi team manager della società di Bagnol di Montemurlo presente alla manifestazione proprio a seguire Salimbeni dicevamo Salimbeni è al comando assieme a lui viaggia Riccardo Sandretti che è il podista hanno già vinto questa manifestazione intanto questa immagine che ci mostra appunto il concorrente contrassegnato con il pettorale numero 62 Matteo Lazzarini che viaggia insieme a Federico Zagnoli per quanto riguarda la situazione alle spalle di Salimbeni e di Sandretti abbiamo Arretini e Salucci che conservano al momento in maniera netta il secondo posto mentre si dilatano i ritardi tra le primissime tra le prime due coppie e le altre perché la terza ormai viaggia a circa quattro minuti e mezzo quella formata da Lombardi e da Quinzi più lontani Baldi e Perera poi ancora Fabio Fabri e Jonathan Attesi e via via le altre coppie mentre non cambia la situazione tra quelle miste con Pamela Rinaldi e Gianni Borsetto che continuano a rimanere al comando della gara ricordiamo invece per quanto riguarda il trail della Calvana che ancora Sandro Giorgetti è al comando davanti a Fibbi e a Bellinvia vedremo se la situazione cambierà nella parte conclusiva quella che sembrerebbe più facile perché si va in discesa ma è una discesa sicuramente difficile una discesa impegnativa e occorre molta attenzione anche per evitare tenuto conto delle condizioni atmosferiche per evitare eventuali cadute fino a questo momento tutto si sta svolgendo nel migliore dei modi dobbiamo sottolineare intanto avete visto Renato Poli primo piano 69 anni pensate un po' questo grande appassionato che continua ad andare in bici oltre che essere direttore sportivo abita alla briglia di Vaiano e anche oggi lo troviamo impegnato in questa scarpi rampi il servizio sanitario è curato dalla misericordia di Prato che ha predisposto vari servizi lungo questo tracciato di 30 km per eventuali interventi auguriamoci che non ce ne sia bisogno per quanto concerne appunto la manifestazione stessa che viene organizzata dal negozio il campione da Silvano Melani assieme a lui naturalmente i suoi collaboratori dell'associazione Regalami un sorriso e poi ancora ricordiamo naturalmente per quanto concerne l'aspetto tecnico organizzativo la Lega Ciclismo Wisp di Prato la Lega Atletica Leggera sempre di Prato con Fabio Rosati che avete ascoltato nell'intervista prima della partenza da Santa Lucia di Prato Naturalmente sarà difficile poter abbassare il record della manifestazione in quanto le condizioni atmosferiche incidono molto su questo quindi vedremo quello che sarà il tempo fatto segnare poi al termine dei 30 km a San Quirico di Vernio dove la gara si concluderà su un breve tratto asfaltato e praticamente nei pressi della chiesa parrocchiale ancora tratto in salita vedete anche la nebbia che praticamente avvolge la zona della Calvana in questa mattinata di metà novembre vediamo i podisti in questo momento che se la prendo tranquillamente vedete c'è anche chi ha il tempo di fare un velocissimo spuntino infatti sono previste queste zone di ristoro quanto mai attese e preziose per i concorrenti e anche questo fa parte dell'organizzazione Silvano Melani come sempre bravo nell'organizzare questa bella iniziativa mentre continuano a transitare i vari concorrenti e ancora una volta davvero bravi tutti coloro che appunto hanno dato vita e stanno dando vita a questa manifestazione intanto sta arrivando anche la prima donna che è Pamela Rinaldi coppia mista con la Rinaldi viaggia infatti Gianni Borsetto avete visto anche Fabio Mati e Stefano Mengoni della Super Glance ed eccola impegnata in questo momento la brava concorrente Pamela Rinaldi che assieme a Gianni Borsetto conduce questa classifica speciale ci sarà proprio un riconoscimento particolare per la prima coppia mista si continua a salire perché si dovranno raggiungere di oltre 800 metri in questa zona della Calvana che questa mattina accoglie ancora una volta per la ventesima volta i concorrenti della Scarpi Lampi impegnati un centinaio di coppe quindi circa 200 concorrenti ai quali vanno aggiunti circa 85 podisti che stanno dando vita al trail della Calvana una manifestazione nella manifestazione inserita da un paio di anni per tutti poi ci sarà questa grande festa che possiamo definire un valore aggiunto in programma venerdì sera alle ore 21 all'Hotel Palace di Prato quando appunto ci saranno i riconoscimenti saranno altri momenti naturalmente di festa per questa Scarpi Lampi che ha tagliato con piena soddisfazione dei suoi organizzatori i 20 anni ancora un passaggio per quanto riguarda i podisti ed i biker e allora andiamo a vedere successive immagini su questa edizione della Scarpi Lampi che si è disputata domenica scorsa lungo i sentieri lungo il crinale della Calvana in provincia di Prato queste sono le immagini che giungono dalla zona del traguardo siamo a San Quirico di Vernio questo è il comune di Vernio la chiesa qui la zona di arrivo con Luigi Salimbeni e Riccardo Sandretti che sono attesi da un momento all'altro sul traguardo mantengono il primo posto sono al comando fine dalle prime battute di questa gara hanno un vantaggio di poco superiore al mezzo minuto nei confronti di Arretini e Salucci e quindi tutto è pronto naturalmente naturalmente camini fumanti tenuto conto che la temperatura è abbastanza rigida vediamo in questo momento gli organizzatori che hanno predisposto naturalmente la zona di arrivo l'associazione regalami un sorriso i giudici della Lega Ciclismo UISP di Prato gli sportivi che stanno attendendo la conclusione di questa ventesima edizione della Scarpi Lampi organizzata dal negozio il campione mentre giunge intanto Sandro Giorgetti il primo del trail della Calvana 2 ore 41 e 55 davvero bravo quindi Sandro Giorgetti che ha ottenuto il successo in questa manifestazione con il pettorale 146 ora stanno arrivando naturalmente anche Graziano Fibbi che ha ottenuto il secondo posto sempre nelle trail della Calvana e arrivano anche i vincitori della ventesima Scarpi Lampi eccoli qua Luigi Salimbeni il ciclista e assieme a lui Riccardo Sandretti quindi bisse per loro in questa ventesima edizione della Scarpi Lampi e vediamo i piazzati alle spalle di Salimbeni e di Sandretti vincitori della Scarpi Lampi sono Andrea Retini e Sauro Salucci 32 secondi di ritardo 2 ore 39 minuti e 0 9 terza posizione per Sergio Lombardi e Giuseppe Quinzi 2 45 e 14 che hanno ottenuto dunque il podio questo è per quanto riguarda le prime tre coppie vedete proprio Sergio Lombardi e Giorgio Quinti intanto stanno arrivando Alessio Baldi e Cristian Perera che ottengono il quarto posto mentre poi attendiamo ed eccoli qua Fabio Fabri a ruota libera Poggio Accaiano e Jonathan Tesi sulla sinistra che vanno ad ottenere il quinto posto ricordiamo nel frattempo per quanto riguarda le coppie miste il successo di Pamela Rinaldi e Gianni Borsetto 3 15 53 secondi Luca e Lucia Latucci terza Francesca Poli e Daniele degli Esposti questo per le coppie miste ricordiamo che Sandro Giorgetti è stato il primo nel trail della Calvana mentre giunge ora in sesta posizione la coppia Gianluca Cecconi Gianni Fedi con il pettorale numero 40 siamo già dunque a sei coppie che hanno portato a termine questa ventesima edizione della Scarpi Rampi mentre sta arrivando con il pettorale 42 anche Fani Ciolli prima erano giunti Maurizio Gavazzi e Lorenzo Magnolfi in settima posizione poi appunto Ciolli Fani eccoli qua inquadrati entrambi in primo piano vedete le condizioni del mezzo meccanico dopo questi 30 chilometri tra il fango sotto la pioggia lungo un percorso reso più impegnativo più difficile proprio dalle condizioni climatiche mentre sta arrivando anche Alessandri assieme a Cardia che vanno ad occupare la nona posizione e concluderemo con i Dei la coppia giunta in decima posizione intanto vedete eccola qua Cipriano e Pinai numero 43 sono i decimi arrivati dunque Salimbeni e Luigi dell'Olimpia team di Bagnolo e Riccardo Sandretti hanno vinto in 2 ore 38 e 37 minuti scusate in 2 ore 38 minuti e 37 secondi secondo Andrea Arretini con Sauro Salucci poi Sergio Lombardi Giuseppe Quinzi Alessio Baldi Cristian Perera Fabio Fabri con Jonathan Attesi queste per quanto riguarda le prime 5 coppie dunque un'ottima edizione ma andiamo ad ascoltarci anche le interviste realizzate con i protagonisti e ringraziamo anche il collega Vezio Trifoni e oggi gara impegnativissima tracciato durissimo tempo un inferno da quelle parti ha smesso di piovere però comunque la strada l'è segnatissima grande pozze dura come pendenze niente da dire tanta acqua mi sembra tanta acqua in terra tanta acqua in terra tanti scoli tanta mota tanta forza tanta gioia in questo momento ecco ci avevano detto che eravate da soli invece dopo all'arrivo eravate subito dietro avevate i secondi quindi insomma è stata veramente lo sapevate che avevate dietro insomma no ecco no ce ne siamo accorti all'ultimo chilometro forse l'avevamo presa un po' comoda perché ci sembrava che il vantaggio era tanto comunque Riccardo ne aveva ancora sinceramente è andata bene lo stesso ecco una manifestazione dove c'è ciclismo e podismo insieme forse unica nel panorama toscano ma non solo a dimostrazione che insomma a Prato si fanno sempre delle cose particolari sì è una manifestazione unica perché ha diciamo una formula particolare podista e biker poi il percorso è anche proprio adatto perché si è impegnativo per tutte e due diciamo soprattutto in giornate del genere infatti vedo che tutti gli anni riscuote sempre un gran successo Andrea Arretini partiamo da lui insomma ci hanno detto che era veramente difficile correre su questo percorso la discesa di per sé tecnica è resa ancora più tecnica dalla stagione un po' improbabile però per questo è ancora più affascinante e dura è stata è una bella esperienza una gara unica per chi riesce a coniugare due sport e complimenti all'organizzazione allora allora Sauro Salucci 44 anni leggo qui insomma sei in grande forma mi faccio andare in mountain bike ho trovato un grandissimo atleta che mi ha portato secondo posso dire grazie solamente a lui perché mi ha aspettato mi ha aspettato anche prima è vincitore abbiamo detto ciclismo e podismo insieme insomma è un bel legame è una grande esperienza bella esperienza era il secondo anno che lo facciamo insieme e ci siamo sempre divertiti per ora bellissimo